Quando un uomo sogna da solo, quel sogno si chiama utopia. Ma quando inizia a sognare con gli altri, quel sogno si chiama cambiamento. Insieme sogniamo per te un posto diverso, dove esprimere te stesso e sentire che la tua unicità è per gli altri una ricchezza. Dove sentirti parte di una grande famiglia, dove le regole non sono divieti, ma consigli per la vita. Dove gli insegnanti sono anche educatori e compagni di viaggio, dove la tecnologia sostiene e migliora la didattica. Dove studiare significa appassionarsi al mistero della creazione e dell'esistenza. Sogniamo per te un posto dove imparare facendo esperienza anche fuori dai banchi di scuola. Dove conoscere la complessità della vita attraverso la testimonianza di grandi uomini. Dove salire sulle tavole di un palcoscenico per prendere coscienza di sé. Dove poter gustare la felicità di una piccola vittoria e cogliere l'opportunità dietro una sconfitta. Dove imparare nuovi modi per esprimere le tue emozioni. Dove comunicare in diverse lingue per aprire la strada alla scoperta del mondo. In questo posto, la tua famiglia ha un alleato prezioso. E il sogno iniziato da Don Bosco continua a vivere nella nostra storia. Questo sogno si chiama cambiamento. Perché la nostra scuola non è la stessa scuola. Il sogno si chiama cambiamento. Il sogno si chiama cambiamento. Il sogno si chiama cambiamento. Grazie a tutti